Buonasera a tutti e a tutti i cittadini, sono qui per portare i democratici italiani alla lotta elettorale, alla battaglia elettorale in questa regione. Domenica si voterà, si voterà per eleggere il nuovo Consiglio regionale, il nuovo governo di questa regione e io spero, penso che ci siano tante cittadine e tanti cittadini che continueranno a dare la fiducia alle ultime democratici italiane. Buonasera a tutti i cittadini, sono qui per il centro del governo, non avete dignità. Abbiamo un percorso democratico indistruzibile, 60.000 quasi cittadini di questa regione hanno scelto il nostro candidato a governare la regione, abbiamo rinnovato le nostre liste, abbiamo tanti giovani e tanti giovani donne.